Ecco, Susi è la sua ex ragazza che l'ha lasciata. Susi, lo faccio per te. Fallo per Susi allora. Buonasera. Allora, hai visto quanta gente qui per ascoltare la sua storia? Ci racconti un po', intanto come si chiama? Io mi chiamo Fello, tutti gli amici mi chiamano Fello. Fello? Cos'è? Un nome curioso, cos'è? È un diminutivo. Diminutivo di? Ivo. Ma come di Ivo? È più corto il nome, strano. Susi, lo faccio per te, perché io ti amo. Bravo. Dal primo giorno che ci siamo conosciuti su quella chat, per Fegati Solitari. No, veramente le chat ci sono per i cuori solitari. Se vedi le foto ci vuole Fegato. Da, cominciamo bene. Susi, lo faccio per te. Facciamo qualcosa per Susi per riconquistarla, vai. Non ho mai dimenticato, tutti i bei momenti passati assieme, come quella notte, trascorsa sotto le lenzuola. Ah, allora c'è stata la notte di passione con la Susi. No, è Halloween, facciamo i fantasmi. Ma come fantasmi? 40 anni fai fantasmi all'Halloween. Susi, lo faccio per te. Susi, non puoi aver dimenticato quella notte in cui non abbiamo chiuso occhio. La notte di fuoco e fiamme c'è stata. Sì, non abbiamo digerito le cozze. No, basta, racconta le schifezze, per favore. Fallo per Susi, eh. Vai, vai. Susi, Susi, di quei giorni rimpiango solo una cosa. Cosa? Rimpiango quel giorno in cui non ho ascoltato mio padre. Sì, ma cosa diceva tuo padre? Non lo so, non l'ho ascoltato. E va bene, ce l'ha tutte questo qua, però, eh. Quanto mi hai fatto piangere. Eh, lo so, fanno soffrire le donne. E gli amici mi dicevano, ma dai, fello, non fai così, è inutile piangere sul latte scaduto. Scaduto? Scremato. Ma che è scremato? Scremuto? Non è scremuto in latte. Italia 1. Vabbè, Italia 1. Facciamo.